E tutti i ragazzi che lavorano per noi, grazie! Siamo a posto? Sì, è proprio bene. Però male, ragazzi, noi vi salutiamo, è stato indimenticabile come sempre, soprattutto perché, beh, ci siete voi e siamo a Novellaro, una cosa particolare, anche per la giornata che è oggi. Vi salutiamo, vi ringraziamo, ci vediamo domani. Grazie. Sì, una notte di settembre mi sveglia il vento sulla palla. Sì, una notte di settembre mi sveglia il vento sulla palla. Sì, la strada del corretto. Sì, la strada del corretto. Sì, la strada del corretto. Sì, una notte di settembre me ne andai, Il fuoco di un pepino, non è caldo come il sole del mattino, chissà com'era in casa mia, il fuoco di un pepino, non è caldo come il sole, non è caldo come il sole, il fuoco di un capo, non è caldo come il sole, non è caldo come il sole, non è caldo come il sole, non è caldo come il nostro pepino. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.